Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, il solito ormai appuntamento del sabato in cui racconto un po' la settimana che abbiamo vissuto qui sul canale, qualche anticipazione di quella che verrà insomma un po' un mix tra programmazione della prossima settimana e quello che è stato è un appuntamento, è un video in realtà dove non è il punto a fare chissà quante visual, già quei video lunghi non è che ne facciano tante però questo è più un appuntamento proprio di community, mi piace pensarlo così un appuntamento del weekend in cui facciamo un attimino il punto di tutto quello che è stato e di quello che abbiamo che bolle in pentola, diciamo così allora, da dove partiamo? Da una cosa importantissima ovviamente ragazzi, venite tutti a seguirmi, mi raccomando vi aspetto tutti su Instagram, stiamo cercando di crescere anche lì, stiamo facendo delle cose veramente molto interessanti a livello di storie, molto interattive, ci si diverte insomma, anche lì c'è una community che sta crescendo entrate al gruppo Telegram, seguitemi su tutti i social, ma roba più importante adesso e poi vi spiegherò perché ragazzi questa qui è il mio canale sulla piattaforma Viola sì, siamo ripartiti con l'apertura della nuova stagione, siamo ripartiti anche a farle live lì ne parliamo dopo, mi raccomando, date subito a lasciare un follow, comunque trovate tutti i link nella descrizione qui del mio canale boh però è meglio partire eh come al solito, vado lungo e poi devo correre, niente, in realtà settimana, a livello personale, chi un po' mi conosce, che nel gruppo Telegram lo sa, insomma sto avendo un po' di problematiche con la schiena e quindi combatto da anni con dei problemi abbastanza importanti alla schiena e sono una settimana e mezza in cui non riesco ad andare a lavorare per anni emotivi e sto parecchio male, però adesso ho fatto una risonanza magnetica giovedì, stima prossima avremo i risultati e poi non vi tedierò oltre con questo argomento, magari sabato prossimo vi faccio sapere se le cose vanno bene o vanno terribilmente male speriamo ovviamente in positivo, restiamo positivi al metto delle mie problematiche personali a livello fisico, il canale il canale è stata una settimana molto interessante, insomma abbiamo proposto delle qualcosina di nuovo ormai la seconda stagione di Mondo Nerd, così come l'abbiamo chiamata, si è ufficialmente aperta come avete visto sono uscite alcuni un po' diversi dal solito, altri classici, abbiamo tanto da lavorare, tanto da fare settimana credo che è questa, la prossima e forse anche la prossima ancora le prossime due, mettiamola così potrebbe essere settimane un po' intermedie perché? perché tanti di voi ovviamente sono rientrati a scuola già, stanno rientrando rientreranno, tanti si inseriscono un nuovo contesto scolastico, quindi a livello di visual e tutto è un periodo in cui ci stiamo un attimino riassettando stessa cosa succede per le live, credo che da ottobre in poi vedremo un attimino a che punto è il canale comunque, in questa nuova stagione, come avevo anticipato entreranno nuovi argomenti che tratteremo sto cercando di tenere una programmazione un attimino fatta meglio e cosa intendo con questo? allora, sto cercando di darvi dei giorni in cui vado in live, attualmente sono lunedì, mercoledì venerdì e sabato la domenica gli orari in settimana dovrebbero essere quasi sempre la sera alle nove e mezza forse un po' prima adesso iniziano le scuole, sto valutando il sabato la domenica è ambiguo, stasera saremo in live dalle nove ragazzi, non mancate perché faremo, tornerà anche il torneo di Naruto devo ritornare a scaricare il gioco che ho acquistato tempi addietro quindi sceglierete voi i personaggi poi vi spiegherò magari in un minutino alla fine del video e quindi sto cercando di dare una programmazione torniamo un attimo a noi questa è la programmazione per le live sto cercando di tenere i tre video che avevo promesso lunghi a settimana addirittura stiamo arrivando a quattro vale a dire il lunedì solitamente esce un video su un ufufo che ho fatto il mercoledì un video così sempre un po' diverso dal solito questo mercoledì per esempio abbiamo fatto un'analisi del personaggio devo ringraziarvi perché i numeri di video lunghi sul canale sappiamo che sono tendenzialmente sempre bassi quello di mercoledì è andato abbastanza bene sono molto felice mi avevate chiesto in molti il ritorno del format analisi del personaggio abbiamo analizzato Gon e Goku quindi grazie di cuore per il sostegno che mi avete dato il sabato esce questo video ormai settimanalmente e la domenica il video per gli abbonati il video lungo in cui riscatto le sfide degli abbonati se volete vi ricordo potete abbonarvi al canale ci sono tutte le metodologie potete andare a vedere un sacco di vantaggi ci offro e quindi c'è la sezione potete andare a controllare decidere se dare il vostro sostegno anche a livello di abbonamenti al canale detto questo nuovi, nuovi shirts nuovo formato mi sono ripromesso di fare almeno tre shirts a settimana sulle curiosità che siano curiosità a tema anime, manga a tema Marvel, DC a tema videogames è l'ultima grande entrata all'interno del canale ragazzi dal proposito ho creato una playlist qui nel canale se volete vedere adesso è entrata nel mio canale andate nella sezione playlist ci sono delle playlist già create dove ci sono curiosità anime e manga curiosità a tema Marvel curiosità DC e curiosità sui videogames così quando faccio lo shirt dedicato a una curiosità specifica di quelle la inserisco nella playlist e voi potete riederlo senza dovervi andare a ricercare in mezzo a un milione di shirts perché ne faccio uscire tantissimi effettivamente siamo oltre 2.000 video caricati sul canale in 7, 8, 9 mesi quindi immagino che sia difficile cercarli quindi ho creato queste playlist e sto suggerimento anche dei miei collaboratori che vi ringrazio sempre io ci metto un po' prima di riuscire a capire bene come gestirmi come muovermi però ci sto provando raga se vedete un video che ho fatto un nuovo video di curiosità shirts e vedete che ho ancora inserito nella playlist mi raccomando scrivetemelo nei commenti perché vuol dire che mi sono dimenticato e sì quando registro spesso mi dimentico di fare certe cose e poi si creano queste robe che uno non può più ritrovare magari lo shirts della vita chi lo sa comunque questa è un po' la nuova programmazione no? ho provato a inserire questi format nuovi questa settimana è uscito quello dei videogames su Mortal Kombat quindi sono tendenzialmente felice al netto delle visualizzazioni che se non andate più o meno bene ragazzi vuole tempo per inserire un nuovo format all'interno di un canale per farlo piacere comunque il vostro sostegno è fondamentale non manca mai devo dire la verità a prescindere che sia andante poche le visualizzazioni si è creata veramente una grande community sono veramente enormemente grato per questo adesso ultime cose che devo dire allora importantissimo in molti in realtà non moltissimi ma qualcuno mi ha chiesto al mondo che fino hanno fatto le sfide con gli iscritti al canale i versus classici che facevamo insomma che abbiamo fatto fino a qualche mese fa sono andati in pausa d'estate annuncio già da adesso potete scrivermi sotto questo video se volete lanciarmi una sfida dovrebbero tornare non vi assicuro di riuscire a fare una scelta del giorno di versus ma dovrebbero tornare le vostre sfide contro di me a tema DC Marvel anime Dragon Ball Naruto quello che volete insomma il grande classico le sfide classiche dovrebbero tornare potrebbero già tornare da domani in alternativa credo più facilmente da lunedì comunque torneranno e probabilmente anche in pianta stabile sul canale perché comunque è un bellissimo format so che vi piace un sacco molto interattivo quindi ho fatto una lunga pausa ma è il momento di farlo tornare vediamo come va insomma avevo altro a dire non mi preparo mai niente quindi sì roba importantissima come vi ho fatto dire prima piattaforma viola sono tornato in live da ieri ufficialmente dopo mesi di stop perché è partita la nuova season qui sul mondo nerd e ho deciso che tutte le live che saranno fatte sia sul mondo nerd che sul mondo calcio parlo di youtube confluiranno e verranno trasmesse anche in live sulla piattaforma viola piattaforma viola che mi offre un sacco di diciamo possibilità di fare un format che qui per n motivi non posso fare ieri abbiamo fatto una live prima abbiamo letto una parte di dragonball f in live sia su youtube che sulla piattaforma viola poi abbiamo chiuso la live qui siamo rimasti sulla piattaforma viola abbiamo visto le sfide tra personaggi dei vari versi tipo Darth Vader contro Vito le abbiamo commentate abbiamo fatto le scommesse c'è una questione bellissima sulla piattaforma viola che sono i punti canale che voi continuate ad acquisire guardando la live in modo totalmente gratuito e c'è la possibilità di giocarli in una maniera un po' tipo gioco d'azzardo ma gratuito quindi nessuno deve paga niente è solo per divertimento raga venite tutti a seguirmi siamo solo in 514 ora siamo in 62.000 io ho fiducia in voi ho bisogno di un grande supporto sulla piattaforma viola perché il progetto per partire ovviamente ha bisogno del vostro sostegno quindi mi raccomando venite a seguirmi stasera ultima cosa poi vi salutiamo perché sennò vado come sempre lunghissimo nei video stasera ore 21 torna al torno di Naruto saremo in live sia qua che sulla piattaforma viola se potete seguitemi sulla piattaforma viola consiglio perché? perché lì faremo le prediction quindi giocheremo quei punti canale probabilmente la sfida sarà articolata su un team da tre che creerò io un team che verrà creato dalla squadra dei moderatori un team dalla squadra degli abbonati un team dalla squadra degli iscritti e si affronteranno questi team e vedremo quante sfide fare insomma potete potrete scegliere i personaggi anche voi quindi mi raccomando non mancate stasera ore 21 detto questo direi che posso fermarmi qui vi ringrazio enormemente per la pazienza anche per questo video che capisco che non è un video chissà che tipo però è un video proprio di community in cui parliamo un po' di quello che stiamo facendo grazie mille sempre per il supporto noi ci vediamo al prossimo video